Codice etico sui partiti, senso di comunità e studio. Sono questi i punti chiave del messaggio lanciato agli studenti del liceo Majorana di Girifalco in provincia di Catanzaro dal neopresidente della commissione regionale contro l'Andrangheta Arturo Bova. La scuola oggi è l'unico contenitore in grado di creare sistemi alternativi da proporre soprattutto ai giovani. Se pensiamo a 1800 i cosiddetti bambini della mafia censiti, 1800 bambini. Presenta all'incontro tra gli altri il sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro e il dirigente scolastico Caterina Scarpino. Dal caso Lea Garofalo fino al sistema giustizia e intercettazioni, il consigliere regionale che di mestiere fa l'avvocato ha regalato agli studenti frammenti della storia processuale italiana di grande significato. Non c'è paese, non c'è comune della Calabria, purtroppo abbiamo visto non solo della Calabria, che è immune dalla malapianta mafiosa. Non c'è comune in cui l'appalto non sia purtroppo, anche nella migliore amministrazione, ho fatto il sindaco, i sindaci tra l'altro possono fare poco. Perché adesso si sa come si fa la gara d'appalto, 10 ditte, ne partecipano anche 15, le buste le prepara tutto qualcuno. C'è già la mafia.